Ciao amici follower, come andiamo? Siamo carichi? Io sempre super carico, soprattutto dal lunedì, si ricomincia la settimana alla grande. Allora, ieri super vittoria del Milan che si avvicina allo Scudetto, la super favorita adesso, dipende da lei, a Sassuolo non dovrebbero esserci problemi e meritatamente sono primi. L'Inter ha fatto anche un'altra grande vittoria, però ho la vaga impressione che quella partita di Bologna la rimpiangerà per un bel po' di tempo. Poi per quanto riguarda la zona retrocessione, Genoa e Venezia aritmeticamente sono già giù, si giocheranno l'ultimo posto, la Salernitana e il Cagliari, con la Salernitana che ha il match point in mano, che gioca alla Rete contro l'Udinese. Zona Europa League invece è tutto acceso, la Lazio che stasera gli basta una vittoria per essere dentro, anche se gioca a Torino con la Juve, l'Atalanta è ancora dentro, la Roma è ancora dentro, la Fiorentina che gioca a Genova con la Sampdoria è dentro, visto che la Sampdoria è salva. Bello, bello, giornata bella, adesso aspettiamo la prossima settimana per capire tutti i verdetti, carica follower, carica!